Oggi rispondo a una delle domande che ci viene posta più spesso. Come può accadere che due fluidi in uno scambiatore a piastre miscelino? Spaziamo subito il campo dai dubbi. Per miscelare due fluidi in uno scambiatore di calore a piastre si deve rompere una piastra. Una piastra si deve forare o si deve cliccare. I fluidi non si possono mescolare, quindi miscelare, solo se si rompono le guarnizioni. Perché? Perché c'è sempre una doppia protezione. Guardiamo questo breve estratto da un video di come funziona uno scambiatore di calore a piastre. Perfetto. E ora guardiamo questa fotografia di una guarnizione tipica di uno scambiatore di calore a piastre. Come vedete la guarnizione scorre lungo tutto il perimetro della piastra e nella zona dei bocchelli, ovvero dove avviene il passaggio del fluido da una piastra all'altra. Come potete vedere nella zona del bocchello dove il fluido transita per passare sulla piastra successiva non c'è solo una guarnizione, ma la guarnizione è doppia. Vi è quindi una doppia protezione e se ci fate caso guardate questo ingrandimento. Come vedete c'è una sorta di drenaggio verso l'esterno. Cosa significa? Significa che se si rompe una delle due parti della guarnizione, quella più vicina al fluido primario o quella più vicina al fluido secondario, noi noteremo immediatamente una perdita di liquido verso l'esterno. Ebbene questa perdita verso l'esterno ci sta avvisando che una guarnizione è danneggiata o comunque c'è qualcosa che non funziona nello scambiatore. A questo punto non facciamo altro che fermare l'esercizio dello scambiatore, intercettare i fluidi, aprire lo scambiatore e andare a prendere la coppia di piastre dove abbiamo notato la perdita, estrarla, richiudere lo scambiatore e lo scambiatore è pronto per operare nuovamente, leggermente meno efficiente perché abbiamo tolto una coppia di piastre, ma tutto sommato può continuare a funzionare. Questo spiega il perché non ci può essere miscelazione. Viceversa, se si fora una piastra per problemi legati alla corrosione, all'erosione o altri problemi, a quel punto sì abbiamo una miscelazione tra i fluidi, ma se si rompe una guarnizione noi vedremo sempre e solo una perdita verso l'esterno, quindi senza miscelazione di fluidi. Intelligente come cosa, vero?